Ciao a tutti, stasera inizia questa serie di video dedicata al web marketing e sì, parlerò principalmente di come migliorare la visibilità del proprio sito web, in che modo e questo può anche essere esteso ai social, però dei social parlerò verso la fine. In particolare questo che vedete è il grafico che rappresenta le visite del mio blog e potete tranquillamente notare che febbraio 2020 ha questa visibilità, marzo 2020 ha questa visibilità e infine l'ultimo mese, quello di aprile, ha questa visibilità, quasi 14.000 visite mensili partendo da due mesi fa dove ne avevo più di 10.000 in meno. Allora, come ho fatto? È stato un percorso graduale, basato sullo studio e l'applicazione della SEO. La SEO significa Search Engine Optimization ed è un insieme di strategie di web marketing volte a migliorare appunto la visibilità e il rendimento dei siti web, che è composto da tantissime cose che vi illustrerò piano piano. Quindi questa serie di video sarà totalmente gratuita, visibile anche su YouTube, si fonderà su quella che è stata la mia esperienza, su quelli che sono stati i miei studi e anche il mio lavoro e ovviamente troverete tutti i contenuti in formato scritto sul mio blog, di cui trovate il link in descrizione più anche i video sul mio canale YouTube, che è Federico Aviano. Quindi la prima lezione, partiamo dalle basi, consiste nella scelta del dominio per il proprio sito web. Che cos'è un dominio? Il dominio è l'url del sito web, il famoso HTTPS, slash slash, eccetera, eccetera, che contraddistingue un po' il sito stesso, che è diverso dal nome del sito, attenzione. E a parte la scelta del dominio, che deve essere mirata, devono esserci parole chiave, oppure un brand riconoscibile. Facciamo un esempio, voglio parlare di uno sport che è il Calisthenics, penso al blog di un mio amico, allora lo chiamo Calisthenics Portal, come ha fatto lui. Voglio parlare della mia azienda, do il nome della mia azienda al mio url, al mio dominio. Se come me sto parlando di un blog personale, o mi invento un nome con un brand riconoscibile, come ho fatto io, Imlestar, perché se pensi a Imlestar, pensi a me, e vabbè, non pensi a niente di che, però comunque pensi al mio sito, oppure appunto chiamo il sito con il nome mio, cioè Federico Aviano, Mario Rossi, eccetera. Questo per quanto riguarda la strategia della scelta del dominio, che è fondamentale. Perché è fondamentale? Perché a parte il fatto che deve essere riconoscibile, i siti web indicizzano questi domini e ovviamente siccome Google, parlo sempre di Google quando parlo di motori di ricerca perché è il principale, siccome Google non ha un'intelligenza umana, non ragiona come noi, ragiona in funzione di algoritmi. Quindi se tu ti avvicini al suo algoritmo ideale, sei riconoscibile, quindi se appunto parli di Calisthenics, ti chiami Calisthenics Portal, è ovvio che Google ti darà della visibilità rispetto a quell'argomento. Poi, comprare un dominio. È necessario per avere visibilità? Dove lo compro? Come lo compro? Eccetera, eccetera, eccetera. Allora, innanzitutto non è necessario perché è anche un dominio gratuito, quindi che ad esempio contiene al suo interno la stringa .wordpress.com, farò sempre riferimento a WordPress che è la piattaforma più utilizzata in assoluto per i siti web. Ecco, questo tipo di dominio è gratuito, avrà della visibilità in meno rispetto a un dominio a pagamento, ma comunque avrà della visibilità. Sicuramente acquistare un dominio è meglio, anche perché il costo di un dominio si gira intorno ai 15 euro all'anno, più o meno, dipende dall'host dove si compra. E poi il problema dei siti web deriva più che altro dalle spese di mantenimento del sito, quindi la scelta del piano. Su WordPress.com i piani sono molto costosi, ad esempio su altre piattaforme di self-hosting dipende, dipende anche dalla qualità della piattaforma. Parlando un po' delle piattaforme migliori, mi vengono in mente SiteGround e ServerPlan, comunque hanno dei prezzi abbastanza alti che per avere un piano decente superano sicuramente i 100 euro di spese di mantenimento all'anno, però parliamo di servizi che sono probabilmente il top in circolazione. E anche se molti odiano SiteGround, ma è un discorso complesso, io mi ci trovo molto bene. E poi, per quanto riguarda il mio sito web, in realtà si trova su WordPress.com, questo perché quando io ho dato vita all'attività del blog ne sapevo veramente poco di marketing, di web marketing, eccetera, quindi ho fatto una scelta semplice, ho creato il sito, il blog, insomma su WordPress.com con un dominio gratuito, perché inizialmente la mia idea era di non spendere niente, dopo qualche mese ho comprato il dominio e sono rimasto su WordPress.com, principalmente per pigrizia, perché non ho voglia di fare il trasferimento, ma anche per un lato pratico, perché nonostante tutti odino praticamente WordPress.com, chi come me lavora sui siti web e nel mondo del web marketing, per ottimissimi motivi, in realtà per un blog è la piattaforma migliore, perché ti consente di avere un contatto diretto con le persone, con gli altri blogger. ti limita tantissimo su tutto quello che ti viene in mente, non puoi installare plugin, paghi anche di più, a tutti questi difetti però alla cosa fondamentale del contatto umano diretto con gli altri blogger, e fidatevi che è un bel plus dal punto di vista della visibilità, perché se i blogger rituitano, non rituitano, ribloggano, condividono i tuoi contenuti, li sponsorizzano, parlano di te, eccetera, ma soprattutto commentano i tuoi articoli, ecco che la tua visibilità cresce esponenzialmente, ma davvero tanto, davvero davvero tanto, cosa che un sito web su una piattaforma di self-hosting non può avere, perché per commentare ti devi registrare via mail e fare questo e fare quell'altro. Su wordpress.com invece arriva un utente, scrive un commento, fine, è già fatto, quindi sei anche più invogliato, fra virgolette, a commentare e ad essere commentato. Ora io ho pochissimo tempo a disposizione, quindi la mia attività da questo punto di vista è pari a zero, però mi ha sicuramente aiutato, passato a crescere, tant'è che il blog attualmente ha 270 follower su wordpress, che per wordpress è una buona cifra. Quindi questa è la prima lezione, ricapitolando, il dominio è fondamentale per il proprio sito web, bisogna scegliere un dominio consono alle proprie esigenze, che rispecchi il nome del brand, bisogna scegliere molto attentamente, ci sono addirittura delle persone che professionalmente fanno questo di lavoro, quindi non si tratta di una cosa di poco conto, anche e soprattutto perché il nome di un dominio è per sempre, cioè non è che fra un mese, fra una settimana dici toh vabbè cambio il dominio, no, puoi farlo ma saresti pazzo perché distruggeresti completamente l'indicizzazione che hai fatto precedentemente. E se ho un dominio gratuito e lo voglio acquistare, ecco sicuramente perderai un po' di visibilità all'inizio, mi è successo, però essendo comunque un sottodominio di quello che andrai a creare, a meno che tu non stravolga il nome che vai a creare, ad esempio io avevo imlestar.wordpress.com, ho chiamato il nuovo dominio imlestar.com, non l'ho chiamato topogigio perché avrei distrutto totalmente l'indicizzazione precedente, però comunque un po' ci perdi, ma si può fare, ecco, se sei diciamo un blogger, un amatore, anche un'azienda che non ha intenzione di spendere dei soldi sul web ma vuole avere un sito, ecco, un blog su wordpress.com che è l'unica piattaforma dove si può avere un sito web in modo totalmente gratuito, ovviamente le funzionalità saranno ridottissime ma comunque il sito sarà funzionante, ecco, la soluzione migliore è appunto wordpress.com. Se sei un'azienda, se sei un e-commerce specialmente, è un suicidio comprare un sito web su wordpress.com perché le spese saranno sicuramente altissime, non avrai le libertà che hai su un self-hosting e anche dal punto di vista della velocità potresti avere dei problemi. Non ho mai avuti, non parlo di problemi tecnici, mai avuto problemi tecnici su wordpress.com a parte in un caso di cui magari parlerò più avanti, però comunque la velocità è molto buona, ma si può avere velocità migliori su altri tipi di piattaforme self-hosting, quindi questo è il discorso. Spero di essere stato chiaro per questa prima lezione di web marketing, ci vediamo con la prossima, non so quando sarà, però continuate a seguire questa pagina Instagram dove pubblico poco, però quello che pubblico è curato, quindi vi aspetto col prossimo video.